Benvenuti da Nardelli Sport. Col caldo ci viene voglia di bicicletta? Oggi vi presentiamo un i-bike dell'azienda Conway. Parliamo del modello EMS 227 equipaggiato con un motore Bosch Performance Line CX e una batteria da 500 watt. Il telaio in alluminio è montato con una forcella ammortizzata RST, cambio Shimano Deore e freni a disco idraulici. La dimensione delle ruote da 27 pollici e mezzo offre una buona scurrevolezza anche su terreni accidentati. Il motore è controllato dal computerino Purion che ci permette di avere quattro livelli di assistenza alla pedalata. Questo modello di Conway è un entry level che permette a tutti di approcciarsi al bellissimo mondo delle e-bike. Da Nardelli Sport è tutto, buone pedalate a tutti!